Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, siamo in pausa da Super Mario 3D World e cominceremo una nuova serie ragazzi Stratosferica Ratchet & Clank Per poter scaricare Ratchet & Clank basterà come al solito entrare nel Playstation Store come fu l'anno scorso per Uncharted, The Nathan Drake Collection e The Journey Entrare nel menu in evidenza ed entrare anche in Play at Home E lo troveremo qui pronto, bello e impacchettato per essere scaricato Quindi ringraziamo Sony, è stato un bellissimo gesto da parte loro Anche se non è veramente, diciamo, recente il titolo, è sempre un Ratchet & Clank ragazzi, è bellissimo Sony ha anche comunicato che fino a giugno ci saranno iniziative del genere Quindi non rimane che sperare che siano titoli di altrettanta qualità Quindi ragazzi che fate? Aspettate, no, scaricatelo subito un giocone del genere, scaricatelo, forza! Io ragazzi l'ho già scaricato, quindi che fare? Incominciamo e vediamo di cosa si tratta Penitenziario di Alero City Apri la sette Su, muoviti, sì! Ti credi un eroe, è vero? Identificazione detenuto 117 Chip Elix Pensi di farmi paura, sbirro? Sono sopravvissuto ai meandri più bui dell'universo Oh, postaggi da farti tremare i bulloni ai polsi Le fosse dell'eternità di Zordum Le prigioni di ferro di Novalis Con la musica di sottofondo Sveglia, è ora di lavorare, bello Saluti a te Novellino, sono... Il Capitano Quark Quark Io non ci credo, sei tu! Ho sempre sognato di essere arrestato da te Su, togli ti dito Ma certo Stavo parlando con te, Zed Sì, Capitano Allora, Novellino, a quanto pare conosci tutte le mie avventure Certo che sì Sei il più famoso supereroe della galassia Ormai non è più famoso Le parole fanno male, Solingo Bill Sono un tuo grande fan Ho già prenotato un nuovo ologioco di Ratchet & Clank Pure io? No, non è vero Hai presente? Il gioco basato sulla tua disavventura con il Lombax Ah, vuoi dire l'holofilm? Sì, normale Per chi ama gli effetti speciali No, intendo il gioco È tratto dall'holofilm E io ho qui l'email di conferma Mi arriva in prigione via posta magnetica Quando il gioco di un holofilm è basato sulla mia vita Nessuno mi ha consultato Oh, è colpa mia Sono rimasto lontano dalle scene In questo buco dimenticato troppo a lungo E ora Nessuno conoscerà la mia versione Io la sentirei volentieri, Capitano Che lecchino Beh, allora accomodati, criminale diffidente Ti racconterò una storia Avevo letto deficiente comunque Tutto ebbe inizio con uno sventurato Lombax di nome Ratchet Sì È di un robottino chiamato Clank Eccolo, Ratchet Non capisco, ragazzi Perché di questi Cassin sono con le bande nere Mi danno un fastidio queste con le bande nere Sono bruttissime da vedere Dove credi di andare? Ehi Grim Sei qui Credevo di trovarti all'Emporio A prendere bobine gravitazionali Beh, sono qui Sono sempre qui Non credo che la tua fuga abbia che vedere con quei provini Per i Ranger galattici, no? No, assolutamente Ma serve solo un'ora Andiamo Grim Qui stiamo parlando dei Ranger galattici Ci sarà anche il Capitano Quark È il suo idolo Che due palle, ragazzi Grim Raggiungi Luna Park Sistemi di volo andati CPU andata Sono fritte perfino le bobine gravitazionali Questa volta Ok, vediamo se le nuove versa lampadine funzionano Ok Guarda su C'è niente che lampeggia? Sì Il lato sinistro è a posto È a posto È un miracolo Ok, ora le luci dei posti Luce post bruciatore sinistra, ok Questo affare potrebbe essere pronto per lo spazio dopo tutto Un altro a destra Luce post bruciatore destra, ok Siamo a posto? Sì, ci siamo I notiziari dicono che le prove si terranno a Luna Park Facciamo a rompere qualche casa, dai Vado, vado Non ti preoccupare, diventerò ranger Sì Prendi, prendi tutto Ratchet, prendi tutto Io non l'ho giocato questo capitolo Devo essere sincero Non ho mai avuto l'occasione Non l'ho mai comprato Quindi Prima volta che lo provo e ci gioco Anzi no, ci giocai quando avevo il Playstation Plus No, è vero, è vero Ci ho giocato ma poca roba perché dopo mi era scaduto l'abbonamento Ok Faccio fuori l'anocchio di merda Per sbalazzarsi dei nemici Ratchet ricorse all'antica tecnica guerriera del salto Che salto? Devo menare quella massa qua Che cacchio Ratchet spero di dover affrontare tremende minacce Se fosse stato ferito soltanto il nanotech l'avrebbe salvato Vita, vita Grazie Mi ha curato tre ferite di proiettile su cinque Tali Ratchet Ancora tu Ok Sfascia, sfascia, sfascia Eh, cosa devo fare? Questo gioco, scudomi E' morti tutti E' bella anche la cosa che c'è la voce del narratore Che Le fa morire proprio Ok, questo è Luna Park Sì, 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 sì Sono il migliore io Ciao cara Ora Va bene Tutto qua Grazie Ok, dobbiamo saltare sulle piattaforme Uh, abbiamo rischiato stavolta Ma ti ringrazio Ok, sono già qua Vabbè ma Due casse Cioè, devo rompere due casse per essere un ranger Prendi un guantobomba a fusione dal rivenditore Gadgetron Ok Granata a fusione Oh, granata Già all'inizio Beccatelo Così Andata all'altro mondo Era un luogo pericoloso Come dimostravano le numerose casse di munizioni sparse in ogni angolo E meno male che ci sono Sette Otto Perfetto, al massimo Respawnano Meglio ancora Uh, lava Beccatelo Capriolozza e via Poi cosa abbiamo da fare? Oltre che rompere delle casse Ah, per di qua Io lancierei la bomba Abbiamo dato ai manettini un lanciafiamme Gadgetron I nostri legali di conoscere A posta? Sì Ma ci puoi scommettere Cosa abbiamo qui? In cosa consiste? Un'orda di nemici Va bene E dove sono? Dai Eccoli qui Così imparate Avvicinatevi Così Oh Due ne ho presi Nuovo livello per Reset Sconfiggi i nemici per incrementare l'energia massima Ok Vuol dire la potenza delle bombe? Così Oh le ho finite Grazie Ovviamente nel gioco Non è che dobbiamo fare così Perché non è che ci arrivano Dagli alberi Arrivo Quark Io le ho fatte saltare tutti in aria Cosa è che è andata male Che vita non me l'hanno tolta 8 su 8 Ok Possiamo andare Ehi la L'inutile robo difetto Sapeva che la sua unica possibilità Era sfruttare il sistema di ventilazione Doveva solo correre al condotto Per poterci A circuiti e bolloni Me ne vado allora Che dici? Così Calci a tutti Ok Ok Poi Anche qui le bombe Ma com'è possibile? Ok Abbiamo una bomba? Sì Beh è un tappetino Cazzo Che devi dire chissà che Chi ci cerca? Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Faggio laser Mio dio Ma stai fermo tu Scusami Io perché devo farmi ammazzare da te No Non vale Non vale Porca miseria Ma che sei? Salta Ma tu sei Optimus Prime Ma Optimus Prime ti fa un baffo a te Gacchio O sei Megatron No Odio l'acqua No Ok dentro Via 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 Scappa Ok L'apparecchietto poteva alimentare Molti dispositivi Ma dove lanciarli? Beh direi qua proprio Cioè niente più di più semplice Grazie Shib Vado molto fiero Del mio talento Come narratore Qua sopra Qua sopra Questo per esempio Lo lanciamo E lo lanciamo Lì in alto No Allora così E' rotti i maroni Lancia qui E porca miseria Ok Così Perfetto Ok dobbiamo fuggire E ci serve Ci serve ancora La Ah no Ce l'abbiamo giù E qua Così Oh no Ancora Megatron Siamoci alla gambe Prima che arrivi Così Vai Oh no Ancora sta arrivando Megatron Quanto ci pensò Ed eccolo Qui che rompi i maroni Oh Ma beccato Mannaggia lui Quei bastardo Faffaculo Faffaculo Megatron Faffanculo Con sti cazzo Di laser Ma vai a fare In culo Megatron Dei miei coglioni Ancora Mamma mia Che culo Che l'ho evitato Via 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 Ma vai a morire Megatron Dei miei coglioni Bomba bomba Via Andiamo 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 Clank Sì Perfetto Quindi Dobbiamo andare Di nuovo All'officina Nel garage Andate via Slime Ti puoi scommettere E qua cosa abbiamo Un post bruciatore Il nostro Peloso Ero Era fortunato In una cassa Ben posizionata Ratchet Trovò Un combustore Sì ma non ho munizioni Bene Grande Eccole qua Munizioni Mi servono Munizioni Ragazzi Eh aspetta Che arrivo Ok Ne abbiamo 20 Così Ti ringrazio Clank E qua per aprire Il passaggio Non l'ho beccato Così Aspettiamo che respawna qua Così ci da ancora Le munizioni Perfetto E via Possiamo andare Ok Ti facciamo il tagliando Clank Oh 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 vai Affanculo Porto Sì Mi fa piacere Clank Bravo Potevi dire la prima Sta cosa Sbarra le porte del garage E chiuditi nel rifugio Arriverò il primo possibile Aia Stata a fare il culo Stronzi Sono morti? Sì morti Ce n'è ancora uno lì Ok morto C'era un po' di vita qua Sì Vediamo che ne ho pochina Perfetto Munizioni per favore Munizioni mi servono Oh ecco qua Perfetto Tutto al massimo Tu vai fuori dei maroni Slime Ancora di qua Così Alla faccia di Tarzan Qui abbiamo le bombozze Navetta della morte Navetta della Oh piano eh Aia Beccatelo Beccatelo di nuovo No 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 Così Oh che culo L'abbiamo abbattuta Combustore Ce ne possiamo andare Per dove? Per di qua Ok Ne arriva un altro Oh è Ok Per di qua allora E voilà Ci siamo Munizioni per favore Post bruciatore E via Vabbè Fa culo Vuoi morire o no? Sto bene Ma non ho mai Sarà tutto finito Eh Aspetta un secondo Che qua dobbiamo Organizzare una Contro offensiva Bombe Così Uh 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 Questo ha fatto male Amici Una venta in avvicinamento Olè Bombe Sono giù nel rifugio Ratchet Questo posto è un disastro Ti sono armi smontate E' quando Aspetta 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 Che ho da fare Ok 19 su 20 Sto infame Di merda Ehm Bombe Divertirsi con la singolarità E altri eventi catastrofici Peccato Uh nuovo livello Granata fusione Livello 2 25% Gli dando in più Colpisci i nemici Per incrementare il livello Delle armi Avanzato livello Sbloccherai nuovi potenziamenti Al Ritanium Ah no Al Raritanium Va bene Ah ma è vivo ancora In realtà Guardo solo le figure E poi Un provviso E' quando muore Olè E' andata all'altro mondo Aspetta Nessuno all'orizzonte Cosa Nuova carta disponibile Niente Non ti preoccupare Vai tranquillo Prepara i miei attrezzi Nel deserto Ho trovato qualcosa Che devo esaminare Siamo già all'officina Ehi Grimm Tutto bene Che strano Capto un segnale Proveniente da Novalis Sembra una specie Di richiesta di soccorso Ma è disturbata Da uno foscatore Di segnale Blargiano Chi è Blargiano? Ah che bello Ecco Ehi tranquillo Se fossimo in pericolo Il computer Ci avrebbe avvertito Ti sta avvertendo Cioè più che quello O se vuoi che ti dice Anche se in effetti Anche se in effetti Non promette bene Ah certo In città c'è qualcuno C'è qualcuno che può aiutarci Aspetta Quello è Raritanium Forse prima dovremmo potenziare le armi Uh vediamo Allora Ripristi Energia e munizioni Ringrazio Vabbè così Potenziamento misterioso Sbloccato Danni La tua arma infligge più dolore E finché c'è dolore C'è speranza Hai circondato un gruppo misterioso Ti fornirà un grosso potenziamento E questo è quanto Ora prova con una delle tue Ok Ok Stiamo potenziando La granata Si la vorrei potenziare Ancora danni maggiori Certo che si Perché mi piace di brutto là A posto Con un bustore Non è terribile Dover smettere di sparare La soluzione è aumentare Il numero di munizioni Direi Direi a posto Che non abbiamo più niente Quindi ragazzi Terminiamo qui l'episodio Che dire Ratchet and Clank È un bellissimo gioco Mi sta piacendo Quindi Non so Magari ci farò una serie Grazie Che questo ci serve Per i potenziamenti dopo Graficamente È ancora un bel vedere Quindi Si direi che ne faremo una serie Per il momento è tutto ragazzi Grazie per aver guardato questo video Mi raccomando Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Commentate E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao